Finì di scrivere la manchette Un sindacalista a cura di VB Nikola Stojanov finì di scrivere la manchette e inviò il file alla stampa Si sporse verso la stampante per vedere se la manchette usciva equilibrata Tirò il foglio e lesse Colleghi, volete un sindacato che agisca nel vostro luogo di lavoro? Iscrivetevi allo Smado Sui 40 anni, alto e magro, Nikola era considerato un bell'uomo Aveva un cognome bulgaro, ma era nato in Italia Il padre medico era fuggito dalla Bulgaria davanti alle truppe russe E a Nikola era rimasto il cognome straniero Anche se il suo intimo non vibrava per nessuna patria che non fosse l'evoluzione Per questo, molti anni prima, si era innamorato di una parola letta in un libro Che parlava di insegnamenti che provenivano dai piani superiori di esistenza La parola che aveva fatto il nido nella sua mente era reincarnazione Che per Nikola riassumeva tutto ciò che lui credeva della vita Da allora Nikola aveva iniziato a studiare i grandi insegnamenti spirituali, italiani ed esteri Cui giungeva attraverso i libri, le registrazioni, le trascrizioni O per vie nuove come il web Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti